buongiorno allora comincio da oggi a tenevi un po di compagnia fino all'inizio di pasqua io comunque ci sono fino a sabato domenica lunedì anche se non è la nostra festa non ci sono sto comunque in famiglia voi cercate di festeggiare nel miglior modo possibile nonostante la situazione e vi parlo di un po di fidi un po di libri così per fare due chiacchiere diciamo così serene e spensierate allora ci sono tre film oggi da con due ve li consiglio perché sono comici anche se non lo volevano essere il terzo se avete problemi di sonno è perfetto genera una narcolessia che incredibile allora il primo è bloody pito foro è in inglese lo so ma non è che i dialoghi sono la cosa più importante dei film anzi anche se forse se non li capite meglio tra il assunto velocissimo della trama nell'antichità nel medioevo più o meno i costumi sono quanto meno imbarazzanti per non dire ridicoli c'era questo esecutore cremesi che viene condannato a morte perché era un cattivone che un lercione che si divertiva a torturare le persone tra l'altro persona al fisico di un torno bagnati e viene tutto giustiziato nella delle sue delle sue macchine della tortura secoli dopo abbiamo un gruppo digitanti simpatici e e allegri quanto un nugolo di mosche che arriva nel castello da questo lercione questo prosciutto cremesi entra incontra il proprietario che è uno stordito totale si mettono lì per passare qualche ora in quel posto si travestono come per fare una festa in maschera la cosa urta il proprietario che ha un'adorazione feticista per sto per il posciutto cremesi e decide di far rivivere perché lui si considera posseduto dallo spirito di questo prosciutto cremesi di far rivivere l'inquisitore uccidere queste persone con la tortura siamo negli anni sessanta il finale ovviamente buono è bello il cattivone ci lascia le penne in modo assolutamente da imbecille ve lo dico subito il film è una una valanga di buchi di sceleggiatura da far paura c'è uno per c'è la scena in cui non si capisce come ha fatto questo qui a mettere sta donna in quella condizione che ci voleva tu giorni a sistemare quella trappola lui l'ha fatto in due minuti non lo so ragazzi in quella scena c'è un ragno che ve lo raccomando è da ragazzi quelli che si lamentavano dei ragni finti nel film di di fulci dal di là guardino quella roba lì guardino quella roba lì perché ma neanche nei fin degli anni 40 c'era un ragno fatto così coi piedi è ah ma proprio fatta da un bambino con problemi ecco comunque lei cattivone gli uccide quasi tutti tranne una donna ovviamente il suo e il suo bello che lo affronta le scene di lotta sembrano fanno sembra incredibili bus spencer tersile veramente c'è gente che spiegate che si devi tirare un pugno non è che devi tirare il braccio e fare il vento ma stendiamoci un velo pietoso ci sono un po di donnine con pochi vestiti addosso siamo negli anni 60 quindi si tirava anche quel tipo di pubblico quello cioè dei degli amici di federica e non fatemi dire cosa vuol dire perché se non lo sapete ragazzi se lo so io che sono non sono italiano perché così e città un po la poderia prima disco siamo negli anni 60 contestualizzate il film perché ovviamente visto adesso con una certa mentalità dice vabbè le donne sono sono tutte damsel imperi messe lì per fare è divertente ma è divertente perché trascione è divertente perché fatto male gli effetti c'è la ricostruzione interna e plasticosa da far paura cioè si vede il polistirolo messo lì a mucchio le torture ma mamma mia c'è alcuni degli effetti delle torture se sembrano fin degli anni 40 cioè si vede la fiamma staccata dalla persona che sta bruciando dentro ma ovviamente c'è le torture sulle donne poi mi raccomando se si potrà vedere un umbilico o un filino di seno cioè fantozzi ecco diciamo quelle quelle due sono le quadrature alla fantozzi quando guarda il programma televisivo digitali delle mutande ecco è quello che prendetelo con una voglia di ghignacci sopra anche se non si capisce un cazzo di quello dice ma non è un problema perché l'attore che fa il ville in quello che pensa di essere esecutore cremisi riesce a fare bene due cose il fatto che si unge si mette addosso più olio di quello che serve per friggere le frittelle a febbraio ogni tre per due una bella oliata immagino straparla del suo fisico perfetto perché l'intelligenza lì se l'è dimenticata ma non c'è mai probabilmente neanche stata infatti muove come un minchione ve l'ho detto e ha dei movimenti a scatti non so sembra quasi che per farlo muovere di una scossa elettrica e ora si agita così c'ha la recitazione di una varmetta catalitica e si vede ma proprio per quello vi fate due risate perché è palesemente sovra sta recitando sopra le righe ma non di un paio di scalini ma di tutta una scala cioè è sopra le righe in modo assurdo ma di bene o male tutto sopra le righe è proprio per questo che è divertente da guardare perché è un oro action trascione che di oro rifico non c'ha una mazza l'action farebbe vergognare topolino però talmente buttato lì che ci si ride volentieri il secondo è il secondo è un film messicano allora bisogna capire una cosa messicani e spagnoli hanno sfornato penso che sia messicano sono messicano e spagnolo quindi scusate ma non sono sicurissimo hanno sfornato un sacco di film basati sui luciador cioè sui lottatori di wrestling messicani o spagnoli che mi portano la maschera ora di questi film qua non se ne salva uno ma manco mezzo ma manco un decimo proprio sono roba da da star a guardare questo qui invece da avere il luciador maschio a vi raccomando su youtube ce n'è uno non mi ricordo il titolo sono sincero anche quella è in spagnolo non è importante che capiate la trama che sono tre luciador che combattono contro un super criminale ragazzi questi costumi non se li tolgono mai mai e sono costumi sembrano non so un incrocio tra plastica per foderare per avvolgere le pietanze e il latex non è così non so esattamente che materiale è ma io non voglio andare vicino a quelle persone perché se a tutto il fine non si sono tolti i costumi immagino dopo un par dopo un par d'ore neanche da un par di gioco un par d'ore che te passavano vicino svenivi un reggimento di capri del neghevi in agosto profuma profuma di sandalo e e gensomino rispetto a loro tornando questo questa qui si chiama batwoman è una luce d'ora notate lei quando combatte su ring come luce d'ora ha un costume intero cioè cappuccio copiato da batman male mantello copiato da batman malissimo costume copiato da batman di adam west cioè grigio fatto malissimo quando smette e stivaloni da sembra più da mistress ma fatti male vabbè quando combatte il crimine di notte e in bichini bichini letteralmente reggiseno slip stivaloni da mantello mascherina non ho capito perché ci sia questa differenza o meglio la si capisce perché il cameraman tre volte su quattro la inquadra con prospettiva davanzale così si vede bene tra l'altro l'attrice che fa la parte di questa eroina è una bella donna è una bella donna però sembra che l'unica qualità che abbia quella cioè l'attrice quella che ha un bellissimo fisico per forza lo si vede tutto non quasi però è un'impedita come supereroina tre volte su quattro la devono salvare gli altri per lei una stordita anche qui le scene di combattimento con i cattivi ve le raccomando perché il film dura 80 minuti ma lei deve affrontare questo scienziato che vuole creare un ibrido uomo pesce e ce la fa vediamo questo ibrido uomo pesce allora se qualcuno ha un po di memoria storica magari ha visto il morso della laguna nera dice carnold che degli anni 50 in bianco e nero rispetto all'uomo pesce che si vede in questo film quello là è un film fatto l'altro giorno cioè un blocco di plastica con gli occhioni larghi che si muove palesemente con difficoltà perché secondo me chi c'era nel costume non vedeva una fava va bene tutto è poi questa qui veramente c'è una gente preparatissima con mezzi tecnologici che sostanzialmente sono una scatoletta che che assomiglia più a un citofono che ha anche un telefono e non e tutte le volte che è nei casini se non c'è qualcuno che la salva fa una brutta fine meno male che l'eroina del film ha tra l'altro è un eroina del film che da pipistrella si veste a paura dei sorci dei topolini anche questo bel trascione assolutamente ridicolo non capite la lingua no è spagnolo oltretutto fortunatamente non si parlano molto spesso addosso anche perché le battute sono quello che sono lo scienziato pazzo che fa la parte del cattivo e uno che ogni tanto c'è un attacco di risata che sembra un tizio che ha un infisema vabbè è un bel trascione risoso dura tanti minuti vi vanno via tranquillamente tra l'altro il classico problema di quindi quel team ha del tempo alla fine del film c'è praticamente il taglio di tutta la parte dei crediti quindi non sapete non so neanche di vichiera ho detto l'attrice molto bella ma le qualità recitative non sono neanche importanti perché maggior parte del tempo è in giro in bikini a mostrare le poppe perché il cameraman c'ha c'ha una specie di non so c'ha un trespolo apposta ed è sistematicamente nei casini c'è sembra una damsel in peril degli anni 40 più che una eroina delle degli anni 60 ma diverte diverte se lo prendete ovviamente nel verso giusto cioè i film sui luciador ness non avevano assolutamente idea di essere fin seri cioè l'idea di fondo era dei fa dei gran film trascioni casinisti per farsi due risate questo ve lo dico perché non vanno proprio presi ma di base chi li ha fatti non li prendeva sul serio alcuni degli attori che fanno il luce d'oro in questi film c'hanno una panza che galeazzi al confronto e snello quindi non sono film fatti per essere presi sul serio e questo segue la stessa idea in più tira un po al prurito degli amici sempre della federica ecco siamo negli anni 60 ricordatevi che in italia quando è uscito una sull'altra per una certa scena a momenti veniva giù il soffitto il terzo il terzo è un oro indipendente italiano allora se non avete value in casa ve lo consiglio il film su youtube è stato ricaricato dalla stessa casa produttrice ed è in live market in versione restaurata del 2020 io vorrei capire cosa c'era da restaurare cioè non sono passati dal value direttamente a seconda non lo so cioè siccome non faceva dormire abbastanza prima ne hanno aggiunto altro altro sonnifero allora il film dura un'ora e mezza circa metà del film è inutile letteralmente ci sono sti tre tre personaggi due ragazzi un ragazzo che cinque minuti dopo che li hai incontrati speri che gli arrivi dietro il il tir di duel e gli passa sopra simpatici come un attacco di orchite con capacità recitative da marmitta catalitica e con dei dialoghi che io vorrei sapere chi li ha scritti perché lo prendo lo porto in una classe di prima elementare e gli faccio ricominciare da capo dalle astine perché così non produce altri danni come quelli che ha scritto nel film qui facciamo un piccolo disclaimer perché poi penso che lo vedranno mai questi qui si scherza si esagera la si butta sull'eccesso sull'esagerazione la si butta in cacciara per usare un termine volgare però la giustificazione che sento dire altre che sento dire da altra gente magari sotto video di recensore un po più seri e ma bisogna rispettare il loro lavoro allora diamo un punto esempio banalissimo io domani dico mio amico ti costruisco la casa io di architettura e di costruzione della casa non so letteralmente una mazza gli costruisco la casa e gli crolla in testa non è che poi dico mio amico è sì però tu non devi arrabbiati perché io la casa ci ho messo in impegno ho capito ma se non lo sai fare non lo fai sto lavoro è vero probabilmente un'opera prima io non lo so perché sul stesso canale c'è caricato saffron non so se sa come è uscito dopo uscito prima saffron e è lievemente meglio siamo sempre nel campo del mi si allunga la barba perché anche sa come bello noioso detto però è un filino meglio un filino è meglio ma qui siamo la narcolessia questi tizi qua fanno i minchia con due tizi fermi a a svuotare questi qua poi sono due rapinatori che gli rapinano questi tre geni vanno aggiungono questo supermercato in questo film ve l'avevo citato anche in un altro un altro video io sono uno che su certe cose ci passa sui blooper cioè l'errore ci può stare cioè il fatto che vogliono ambientare il film in america e vedi all'interno del supermercato la pubblicità della conad ci può stare il fatto che il film si apre con una tizia che dice al macellaio sa sono nuova di cui una tizia tra l'altro che ha due tapparelle al posto delle ciglia ma sa sono nuova di cui dove dove si trova lo zucchero in un centro in un supermercato che grande due metri per due dove si trova lo zucchero e lo vai a chiedere al macellaio non lo puoi chiedere a una cassiera così cioè i sapete i cartelli che mettono in alto per dire qui c'è questo prodotto nei centri come già li trovate eh se no state a ruzzare avanti e indietro passiamo su quello questi ovviamente perché quelli là erano due rapinatori e noi siamo onesti andiamo alla polizia vanno nel centro in questo supermercato e cosa fanno? si nascondono nel supermercato per rubare nel supermercato collegate cervello e culo perché se no è un casino di notte escono per rubare le robe sul mercato ma c'è questo cattivone è un macellaio cannibale filosofo due minuti dopo che ti ha parlato sei tu che gli chiedi per pietà cucinami perché almeno stai zitto ma 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 due ma neanche a una conferenza di cassa mortale ti tiri due balle così questo a parte io l'attore non so chi sia magari è anche bravo non lo so se è la colpa della sceneggiatura scritta così o se lui come attore ha l'espressività del retro di una capra perché non voglio essere cattivo ma veramente è recita in un modo odioso odioso non ha la minima idea di come si interpreti un villain e in uno slasher o comunque un film che contiene elementi da slasher il villain è importante deve essere lui a tenere sulla baracca cioè è lui che sostiene tutto il film uno non va a guardare halloween per vedere le babysitter che vengono affettate ma per vedere cosa fa michael mayer c'è michael myers jason wars vabbè su jason w qualche film ci sarebbe da stendere un velo pietoso freddy krueger la famiglia di letterface sono loro che sono gli elementi carne del film se tu mi ci metti un cattivo che dopo due minuti che parla chi ha già tirato ti ha fatto venire i testicoli grandi come le orecchie di un elefante capisci che non si regge il film io lo dico con rispetto ma se mettete un cattivo che non ha carisma che recita male oltretutto perché recita veramente male e che ti fa una litania che ti tira due coglioni che sei tu che preghi che ti faccia tocchi capisci che c'è qualcosa che non va cioè capisci che quell'attore lì sta sbagliando tutto il non è un villa che tira non si genera empatia per nessun personaggio simpatia un tipo no ti lasciano indifferenti che la cosa peggiore poi se vuoi fare un oro che non mette ansia non mette paura non mette tensione non ti disgusta non ti disturba capisci che hai fatto un buco nell'acqua per giunta ti prendi sul serio e il film è di una noia imbarazzante e poi cioè si capisce sta lì gli fa gli fanno spiegone che mamma mia c'è veramente entrano rasati escono con la barba di di barba blu quattro metri di barba non lo so e poi sai che finisce come finisce cioè che lui li affetta tutti poi la mattina vende la carne al supermercato ma perché te l'ha spiegato per dieci volte lui durante durante ste menate qui in cui fa la filosofia del cannibale volete vedere un film di cannibali uno di quelli che vi disturba guardatevi antropofagus che c'è su youtube quello lì si vi disturba e parecchio infatti non lo consiglio se avete un filo di stomaco delicato perché sennò tirate son che l'anima perché c'è una scena che vi giuro è duretta da reggere e io ho retto fin come all'interiore ecco siamo su chi conosce quel film siamo su quel livello in effetto da schifo dello schifo che ti può produrre per piacere è un value è un valium unico che oltretutto l'aggramante che finisce che odi che i personaggi ti sono terribilmente antipatici perché non hanno non hanno carisma non hanno niente non hanno spina dorsale sono due cojoni che non finiscono più sono già cojoni loro tutti e tre più il filosofo è perché veramente questo quando filosoficia sembra un incrocio tra fusaro ubriaco e il vecchietto il tiamondo scrofalo di greggiano a memoria perché sembra quello il livello del della dialettica di sto tizio che ti viene veramente di perché rimbavaglia perché se non avessi mai a uno gli scapperebbe di malai finisce di scassare le balle ma ammazzami perché almeno non soffro più di sentire le stronzate ecco questo film guardatelo solo se avete problemi di sonno perché cinque minuti secchi secchi vi addormentate che è un piacere se invece volete vedere un voleto guarda tanto roba cosa bello tosto c'è cannibal fiero sempre su youtube che altrettanto tosto però in spagnolo è la versione che c'è sul domenica e spagnola che altrettanto tosto non c'è cannibal holocaust ma poi sapete io su cui su cannibal fiero se cannibal holocaust ho un po di giramenti per la questione degli animali massacrati in scena che non la digerisco quelli sono film che hanno il tema dell'antropofagia questo qui c'è il tema di farti venire l'orchite c'è il tema di farti non lo so i timi andati in coma i neuroni poi per svegliati di metallizzare la presa perché quindi questo sinceramente se lo volete guardare perché avete perché hanno riuscito a dormire va benissimo se volete guardare per divertirmi ragazzi ma la cosa mi ha fatto ridere sapete che sotto i commenti di questo video in del video del c'è una che ha scritto è carino mi ha messo ansia se ti ha messo ansia quello non guardare l'esorcista non guardare il film che ha fatto la gravina sempre sul tema di esorcismo e adesso sono sincero non mi ricordo il titolo perché lo confondo con un altro che invece è una mezza vacata non guardare quelli perché se guardi quelli ti viene un coccolone non guardare il film come all'interiore che ho detto prima o martyrs quello francese non quella cagata che hanno fatto gli americani che hanno fatto hanno fatto il remake che è una roba da correre dietro con le seggiole se vedi quelli ti ti portano direttamente l'altro aromatologico ti mettono in terapia intensiva per super shock perché se questo ti fa paura con quelli la cosa fai chi leopardi pantaloni in due secondi è va bene io vi lascio ci rivediamo domani con altri film da maciullaro da vedere intanto passate un buon giovedì e tenete dura